ciao allora benvenuti nel video delle scoperte del mese il primo prodotto che vi mostro è questo qui che io avevo la mini taglia da 7 ml ma l'ho usata per più di una settimana quindi il primo che vi mostro è del libro che anti age global la creme correttrice sublimatrice come parlo bene francese crema correttiva sublimatrice e questa è quella giorno che è questa qui come io ho detto questa era la mini taglia ma comunque sia ho segnato i prezzi 50 ml viene 34 e 95 però con lo sconto periodico del 40 almeno che sia il negozio si trova anche a 20 e 97 se no le promo sui volantini arriva anche a 24 95 quindi prezzo pieno no guardare le promo degli album o quelle in negozio perché il prezzo può anche andare allora l'inci non è malvagio ma non è neanche buonissimo ma va bene ho acceso la luce perché non si vedeva cosa dire di questa crema la crema correttrice sublimatrice allora che intanto esiste anche la versione per pelle secche o cosa ho scritto perfetto benissimo allora sì quello che dovevo dirvi non leggo più con la mia scrittura è che questa è la versione per tutti i tipi di pelle ma esiste anche la versione per pelle secche questa comunque vi dico il profumo il profumo non sa di niente mi ricordavo che la battuta delicata ma nel mente ne è uscita un po' ha una texture che sembra super ricca ma guardate si è già assorbita sembra subito super ricca super corposa ma basta poche sia prodotto e guardate ed assorbita quindi ed assorbe immediatamente mi piace allora essendo una crema giorno l'applico di giorno da sola ma come base trucco non mi piace perché avendo la pelle mista tendente al grasso preferisco un prodotto più leggero se poi vado applicare sopra trucco se no mi si lucida troppo velocemente però è valida se no l'applico tranquillamente alla sera anche con il caldo o comunque quasi stagioni non mi va a lucidare la pelle durante la notte non mi sveglio con la pelle unta la trovo bella idratata bella nutrita bella bella devo dire che però a differenza del siero che ho riscontrato l'effetto correttivo proprio immediato perché in base a come giocava la luce un effetto correttivo riempitivo immediato questa non ho riscontrato gli stessi effetti anche se l'ho usata per più di dieci giorni quindi sì comunque è una buona crema c'è il coltino a toccare ma guardate è completamente asciutta assorbe molto velocemente per la sera per la pelle mista grassa a questo punto è meglio la crema notte però ecco una cosa che volevo dirvi hanno usata la confezione non ha profumo applicata profuma tanto perché non ho scritto da dirvi questo è molto profumata e persiste anche che non mi piace tantissimo sulla pelle eppure eppure si sente una cosa che non avevo notato subito oppure mi ha scato di scrivere ed è invece sì è molto profumata quindi non mi piace troppo sulla pelle ecco perché allora gli ho dato questo 6 e mezzo può essere comunque sia è un prodotto valido non troppo ma comunque sia che l'ho già detto fa quello che promette invece con un prodotto che mi dà molte soddisfazioni questa è la crema mani al peperosa della bottega verde e la confezione è quella grande 75 ml ho segnato il prezzo 12 euro 99 prezzo pieno ma è scontabile ad esempio adesso è con lo sconto di 50 e a 6 euro e 49 allora la crema è questa e se vi piace la profumazione al peperosa questa vi piacerà tantissimo perché è lei e lei ed è fantastica quindi usate la profumazione se vi piace questa crema mani è fantastica perché intanto il profumo si sente sulle mani anche per un po dopo applicazione non dura tutto il giorno certo ma però persiste potere idratante da medio ad alto quindi ottima io l'applico tutti i giorni tutto il giorno a assorbe molto velocemente cosa ancora più importante per quello che l'applico di giorno ed è l'applico un attimo sape subito e posso tranquillamente usare le mani come come sempre se no la sera ne applico una strata un pochino più spesso la lascio lì la mattina trovo le mani morbidissime questa è un quella crema mani che stavo guardando prezzo pieno e alto troppo alto da tenere d'occhio con le promozioni assolutamente da prendere se vi piace la profumazione io la tengo d'occhio e sicuramente la ricompro ultimo prodotto per questo video e inizio ad andare veloce perché è orario di passeggiata quindi inizia a passeggiare un po le persone per la via ed si sentono abbaiare tutti i cani del circondato quindi andiamo veloci ultimo prodotto è questo shampoo dello sitan shampoo ai 5 oli essenziali non mi ricordo se il video ve l'ho già messo o ve lo metterò non mi ricordo il balsamo l'ho bocciato shampoo fantastico allora io avevo un 35 ml quindi la mini taglia che ho trovato nel calendario dell'avvento a pensarci bene e mi è piaciuto tantissimo 35 ml è durato per 7 8 applicazioni quindi è durato anche tanto perché basta poco prodotto fa una schiuma fantastica bella morbida bella ricca che però si rimuove molto facilmente sciacquandoli con l'acqua tiepida il profumo è fiorito fresco e persiste un pochino sui capelli dopo l'uso quindi se li laviamo alla mattina rimane fino al pomeriggio non tutta la giornata però è buono cosa importante che buon potere pulente pulisce davvero a fondo non irrita la cute non secca i capelli anzi li lascia ve lo faccio vedere perché davvero wow li lascia davvero morbidi belli setosi belli nutriti belli dice ripara anche riparati no però li lascia belli morbidi proprio al tatto districati facili da pettinare facili da mettere in piega quindi questo mi è piaciuto cosa che però mi sono raccorta adesso e che non vi ho detto i prezzi allora 75 ml 5 euro e 50 300 ml 18 euro 500 ml 25 euro tutti quanti dal loro sito quindi ed sono i prezzi ufficiali e davvero questo mi è super super piaciuto e ve lo consiglio a differenza del balsamo questo è buono non mi ricordo se lo scritto speriamo perché volevo dirvi dato che cinque oli essenziali volevo dirvi quali erano i cinque oli essenziali quindi sono angelica lavanda geranio di un lang e arancia dolce buono valido allora andiamo veloci perché qui sento sempre di più ho tutto chiuso porta chiusa finestra chiuse non lo so deve sonorizzare la casa non so più cosa fare si sentono tutti allora comunque ed vi ricordo anche di seguirmi su instagram perché li pubblico le fest impression quindi le recensioni brevi che provo prodotti per una o due volte e li pubblico il sopra e li sono sempre molto cattiva perché ne boccio davvero tanti se avete provato questi prodotti fatemi sapere come siete trovate io spero di esservi stata utile se vi è piaciuto il video mettetemi un like e iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate quando carico un nuovo video e alla prossima ciao